Lo sapevate che uno dei primi informatici della storia era italiano? Questo è Luigi Federico Menabrea, un generale italiano, un nobile vissuto nel 1800, che era anche un appassionato scienziato. Nel 1840 si svolse presso l'Accademia delle Scienze di Torino un congresso di scienziati e vi partecipò tra gli altri Charles Babbage, che era l'inventore, il creatore della macchina analitica, praticamente un proto-computer, e fu uno dei seminari che Menabrea seguì con più entusiasmo. Menabrea scrisse degli appunti che poi trasformò in una relazione in francese sul seminario di Babbage, che di fatto è uno dei primi saggi scientifici sull'informatica nella storia. Quel testo fu poi tradotto in inglese e ampliato con molti appunti da Ada Lovelace, che intrattenne anche una corrispondenza epistolare con Menabrea. Nel lavoro che ne risultò, oggi sappiamo che è presente il primo algoritmo della storia dell'informatica. Menabrea poi proseguì in una notevole carriera accademica, soprattutto nel campo della meccanica. Quindi insomma, quando ricordiamo i notevoli contributi degli italiani alla storia della scienza e magari dell'informatica, ricordiamoci che il capostipite fu il mitologico Luigi Federico, primo conte Menabrea, primo marchese di Valdora.